Maria Serra Certe storie amano muoversi sui binari. Come gli attii hanno bisogno di fermarsi davanti ad un semaforo russo in mezzo al niente. Come certe parole aspettano che si alzi la sparra per poi passare. E seguire in fischio, andare lontano. Certe storie sanno andare veloci, ma quella che ti porta via davvero è sempre in ritardo. C'è qualcosa di prezioso che resta lungo i binari per un tempo indefinito, lasciato cadere a malincuore sopra un cumulo di rimpianti. Certe storie si fermano in stazione per la discesa senza essere mai arrivate. Di certe storie, quelle importanti, alla fine, rimane solo un vuoto immenso, illuminato da fioghe luci artificiali. Grazie. Grazie.